Sì, come ho detto prima, è un'equipo molto difficile per lavorare da ellos nel stadio. Però penso che dall'inizio del campionato abbiamo dimostrato di essere un'equipo molto forte perché attacchiamo tutti, difendiamo tutti, quindi è molto difficile prendere il gol. Abbiamo dimostrato di avere molta qualità in squadra, una squadra mista tra giovani e gente più grande. Quindi andiamo a Bilbao con la consapevolezza di portare a casa con tre punti. Sì, perché già quando sono arrivato la squadra si è vista che ha tanta qualità. Ora sono passate già tante partite, siamo terzi in classifica. Ora che siamo terzi in classifica ci vogliamo rimanere. Abbiamo due squadre fortissime davanti a noi, è difficile superarle, però già per noi il terzo posto è molto importante. Quindi proviamo perché abbiamo dimostrato che è difficile vincere contro di noi e quindi continuiamo su questa strada qua perché penso che possiamo rimanerci là sopra. Sì, per me è importante che l'equipo sia al terzo posto. Poi se metto gol o non metto gol è la cosa meno importante, no? Perché io sono venuto qua, non da delantero, sono un centrompista che devo fare sia difendere che attaccare. Poi se metto assist o metto gol è ancora una cosa in più, penso personalmente anche per la squadra, no? Però l'importante è che la squadra sta facendo bene, che mi trovo bene con i compagni, come ho detto nei miei primi tre mesi. A parte le penultime due partite che abbiamo perso in una semana, che non è stato bello per nessuno, l'importante era vincere subito di nuovo. L'abbiamo fatto in casa l'ultima partita e ora usiamo questa pausa per tornare poi in campionato e continuare a stare lì sopra. Grazie. Grazie.